Buongiorno Don Francesco ed eccoci qua per un altro incontro. Come al solito tre argomenti, parleremo di San Tommaso e il Medioevo, poi vorrei che lei ci parlasse dei Gesuiti, un argomento molto scottante direi e poi come iniziativa dell'Istituto magari parleremo di qualcosa di importante che voi fate da anni e magari le chiederò come è nata l'idea e tutto il resto. Partiamo da San Tommaso e dal Medioevo? Partiamo da San Tommaso e dal Medioevo, due argomenti dove uno include l'altro, perché San Tommaso è un uomo medievale e il Medioevo naturalmente è molto più vasto di San Tommaso. San Tommaso è certamente uno dei frutti più belli del Medioevo perché ne ha ancora tutta la validità fino ad oggi. Se pensiamo alla grande rinascita del pensiero tomista dovuto all'intervento di Lione XIII con l'enciclica Eterni Patris, di cui consiglio la lettura, ci rendiamo conto che il pensiero di San Tommaso travalica tutte le contingenze storiche, mantenendo la sua validità e la sua profondità fino ad oggi. Per quel che riguarda invece il Medioevo, qui mi vergogno un po' a ripetere delle cose che ormai non magari presso il grande pubblico, ma ormai sono assodate presso tutti gli studiosi, anche una parte del pubblico, ovvero sia che il termine di Medioevo come tutti sanno è un termine spregiativo che lo presenta quasi come un periodo di transizione di oscurità, questo tipico degli illuministi, in mezzo a due periodi invece che risplendono. I periodi che risplendono da un lato sarebbe il mondo classico pagano e la rinascita del paganesimo con l'umanesimo, il rinascimento, anche questo invece è un termine positivo, naturalmente il rinascimento di qualcosa che era morta e che era stata uccisa dal Medioevo. Ora è naturalmente dire che si tratta di una presentazione e un'impostazione del tutto partigiana, falsata, balza gli occhi fin dall'inizio e ormai direi che ci si era assegnati il fatto che questa presentazione è del tutto scorretta. Se vogliamo rimettere le cose a posto dobbiamo incominciare a dire che più che Medioevo dovremmo parlare di cristianità, cioè di società cristiana. Allora si capisce meglio come sia questa società e questo mondo cristiano sia detestato sia dagli umanisti anticristiani sia da coloro che vorrebbero mantenere in vita un mondo classico ma in funzione anticristiana. Perché in realtà questa opposizione tra il mondo antico e la società cristiana non sussiste in questo senso che il Medioevo, ovvero parliamo meglio la società cristiana, ha mantenuto vivo il mondo classico in tutto quello che aveva di nobile, di degno, di bello e non si può quindi parlare di una scomparsa, di una morte del mondo antico quanto piuttosto di una sua evoluzione che naturalmente ha richiesto anche la depurazione da quello che era incompatibile con la società e con la civiltà cristiana ma un'evoluzione che l'ha mantenuto e reso vivo. Anche se per esempio vogliamo parlare di un aspetto solamente del mondo antico pre cristiano, quindi dell'impero romano. Ci sono le omelie molto belle di San Leone Magno dove San Leone Magno dopo aver parlato della grandezza potremmo dire umana e terrena di Roma, e quindi senza negarne tutti i grandissimi aspetti di civiltà, sottolinea come questo impero non è scomparso, eppure lui parlava quando c'erano le envisioni barbariche, ma viveva in maniera ancora più gloriosa nella Roma cristiana che aveva dilatato i confini della civiltà classica, della civiltà romana, del mondo romano al mondo intero e non più solo ai già enormi confini dell'antico impero. Quindi la Chiesa ha fatto proprio tutto quello che c'era di vero e di giusto nel mondo classico, ha combattuto gli errori sia speculativi sia morali che erano propri del mondo antico, non si può chiaramente negare che ci sia stata questa opposizione, e ha mantenuto vivo, come tutti sanno e come ho già detto, quindi tutto ciò che c'era di buono, di vero e di bello nel mondo antico. Quindi la società cristiana non rigetta tutto ciò, ma lo trasfigura, lo eleva con l'entrata del sovrannaturale e di tutti i benefici che la società cristiana sa dare al mondo, sempre tenuto conto della fragilità e delle miserie degli uomini. Quindi il Medioevo, per concludere e ribadire quello che ho detto, è la società cristiana. Questo spregio gettato sul Medioevo, anche da un punto di vista della cultura e dell'arte, può venire solamente da qualcuno che esplicitamente o piuttosto quei tempi implicitamente rigettava lo spirito cristiano, ragione per cui, tenuto conto che anche nel Medioevo nulla era perfetto, certamente possiamo dire che fu quell'epoca, come disse Leone XIII, in cui la legge del Vangelo regnava sugli stati, nella società, nell'arte, nella cultura, in tutte le espressioni del genio umano. Quindi quello che caratterizzò il Medioevo è questa epoca di cristianità. Lei ci ha detto alcune cose adesso, quindi da che cosa fu caratterizzata, ma che cosa permise a quell'epoca di diventare tali? Quali furono gli ingredienti che portarono a quest'epoca di cristianità? L'ingrediente, potremmo dire, formale, il principale è il cristianesimo. Naturalmente noi non possiamo ridurre il cristianesimo alla cristianità, cioè alla sua espressione temporale in un determinato luogo del mondo, in un determinato periodo, ma certamente la Divina Providenza, non a caso, ha voluto che il cristianesimo mettesse la propria sede, la sede del suo vicario a Roma, e quindi cristianizzasse quella determinata cultura in particolare. Comunque, l'elemento principale è ovviamente il cristianesimo, in tutta la sua portata sovrannaturale e la sua ridondanza naturale. L'elemento materiale, quello umano, invece viene dato dal mondo antico cristianizzato, e quindi gli apporti culturali sono principalmente due, quindi quello di Roma e quello dell'antica filosofia greca, e poi da questo sangue nuovo, che per la verità all'inizio portò tanti disastri, del mondo barbaro, che però aveva anche i suoi aspetti positivi, evidentemente. Ora, non è farina del mio sacco, sto leggendo in questi giorni il saggio di un professore, che era dell'Università di Torino, collega di mio padre, mi ha chiesto di leggere questi suoi scritti, e lui diceva questo, che gli antichi dicevano che Roma, che era stata conquistatrice della Grecia con le armi, con una sovrastante potenza economica, militare, eccetera, però fu conquistata dai greci con la loro cultura, e che lo stesso fenomeno è accaduto per i barbari, cioè i barbari erano diventati molto più potenti dei romani ormai imbelli, e quindi avevano conquistato quello che una volta era l'impero romano, ma furono conquistati dalla cultura romana, solo che quella cultura romana era diventata la cultura cristiana, da Costantino a Teodosio il Grande, eccetera, era diventata la cultura cristiana, il fiorire dei grandi padri della Chiesa nel IV e nel V secolo, eccetera, per cui è stata la cultura romano-cristiano-cristiano-romana che ha conquistato il mondo barbaro, che naturalmente è germanico, che ha lasciato tracce di sé nel bene e nel male, nel Medioevo, senza dubbio, ma che culturalmente e spiritualmente è stato conquistato da questa civiltà, sia da un punto di vista materiale, quella greco-romana, sia dal punto di vista spirituale, che è il mondo cristiano. Purtroppo, come si sa, per molte popolazioni barbare e germaniche il primo contatto col cristianesimo fu con il cristianesimo ariano, e questo fu veramente una sventura. I Longobardi, i Goti, eccetera, incontrarono l'arianesimo, si fecero ariani e solo in seguito diventarono cattolici romani. E questo, come detto, fu un fattore negativo. La grande importanza, per esempio, dei franchi, i nostri amici francesi, che poi i franchi non erano solo francesi, erano anche germanici, e fu proprio che loro si convertirono dal paganesimo direttamente al cattolicesimo romano e quindi ebbero questo ruolo così importante nella cristianità e quindi il ruolo che poi l'impero franco svolse. Non a caso, tutte queste tribù, popolazioni barbare, scomparirono tutte più o meno, anche i Longobardi, che pure hanno avuto un ruolo così importante qui in Italia, e sono proprio i franchi che sono rimasti e proprio perché loro avevano questa impronta cattolico-romana che nei piani della Divina Providenza li ha posti ad avere un ruolo particolare, potremmo dire così. Ecco, mi chiedevo se un altro ingrediente importante non fosse il fatto che al tempo non esisteva la libera Chiesa e il libero Stato. In realtà la Chiesa aveva un'influenza molto forte sulla società. Non c'era separazione tra i due poteri. Senza dubbio, questo va da sé. Ma diciamo che questa non fu tanto un'innovazione del cristianesimo in quanto tutto il mondo antico non ha mai avuto questa idea o concepito una separazione tra il potere temporale e il potere spirituale. Quindi è un'invenzione recente questa? Assolutamente. Anche noi che siamo abituati, che so io, a parlare di Augusto, di Cesare, eccetera, eccetera, come a dei capi di Stato temporali, ci dimentichiamo che erano anche i pontifici massimi, erano un'autorità spirituale. Semmai nel cristianesimo che cosa avviene? Non la separazione dei poteri, ma la distinzione. La distinzione dei poteri, per cui c'è un potere spirituale che corrisponde poi soprattutto alla vita sovrannaturale delle anime, mentre il mondo antico regna piuttosto il naturalismo, e poi c'è un potere temporale. Ecco, la Chiesa romana mantiene viva questa distinzione dei poteri che non è separazione. Mentre invece a Bisanzio, sull'esempio di Costantino, c'è piuttosto un prolungamento della mentalità antica, ovvero sia l'autorità temporale accentra nelle sue mani anche l'autorità spirituale. L'imperatore bizantino, poi dopo l'imperatore russo, per esempio, eccetera, o l'anglicano, il re d'Inghilterra, desidererà essere così re di Francia senza riuscirsi pienamente, vogliono tenere nelle proprie mani il potere temporale e spirituale. laddove invece la Chiesa romana lotta sempre per l'indipendenza e la libertà della Chiesa. Ma questo non è mai, nessuno l'ha concepito, ma neanche di lontano, una separazione tra il potere temporale e il potere spirituale. L'uno e l'altro si rifanno a Cristo. L'uno e l'altro riconoscono l'autorità di Dio, e non solo di Dio, ma il regno di Gesù Cristo. Tutto il problema, i famosi due partiti medievali, specie da noi in Italia, in maniera più politica in Germania, i famosi Guelfi e Ghibellini, è il rapporto che ci deve essere rispettivamente tra il potere temporale e il potere spirituale. Evidentemente, la Chiesa ha sempre rammentato che la relazione è quella che c'è tra corpo e anima, oppure la luna e il sole, sono i due esempi dei medievali. Corpo e anima, in particolar modo, dove il corpo si rifà evidentemente al potere temporale, l'anima a quello spirituale. È superiore il potere spirituale al temporale. Ma nello stesso tempo il potere spirituale può sopravvivere anche senza il temporale. La Chiesa sopravvive anche se lo Stato non la sostiene o se la perseguita. E tuttavia, però, per il bene di tutti e anche del potere spirituale, è bene che ci sia l'accordo perfetto tra i due poteri. Infatti, quando l'anima si separa dal corpo, il corpo muore e l'anima è un'anima separata che ricerca il suo corpo, rivuole il suo corpo. Mentre invece il potere temporale senza quello spirituale è destinato prima o poi alla morte, alla decomposizione, e quindi è necessario che i due poteri siano assieme. L'idea libera Chiesa in libero Stato, che poi era un pretesto, che Cavur copiò da Montalembert e che prende poi il modello dagli Stati Uniti, che a volte prende il modello dalle Chiese sovversive, le Chiese libere inglesi e scozzesi, da cui venivano quei pellegrini finiti negli Stati Uniti, in realtà è più fumo negli occhi. Già è sbagliato come principio, perché è la separazione di quello che non deve essere separato. Ma poi è anche irrealizzabile nella pratica. Tutti i sostenitori di libera Chiesa in libero Stato sono poi caduti sempre nell'autoritarismo dello Stato nei confronti della Chiesa, alla quale è tolta la sua libertà, specie nei paesi cattolici, oppure è resa schiava dello Stato come negli altri paesi, oppure viene marginalizzata o costretta a aderire alla mentalità dello Stato e della civiltà laica. Ragione per cui questa formula è da rigettare. Ogni buon cattolico la rigetta, e purtroppo una delle situazioni più gravi della situazione attuale nella Chiesa è proprio il dibattito sulla libertà religiosa, dove Montalembert, Cavour, Washington, Franklin sembrano diventati i nuovi padri della Chiesa. Interessante. In che modo sono collegati Sant'Omaso con il Medioevo, Don Francesco? Sant'Omaso è il frutto intellettuale, e non solo intellettuale, spirituale, spirituale perché è un grandissimo santo. Ma come santo, Sant'Omaso rifulge, diciamo, in questo ultimo grande frutto, e il più maturo, potremmo dire, del Medioevo, che fu il movimento domenicano e francescano. Sant'Omaso non è un francescano, è un domenicano, è un figlio di San Domenico, ma lì giustamente Dante, perché Dante ci sono delle critiche da fare, ma è anche un grande esponente nel persiero medievale. Comunque, giustamente, Dante fa tessere le lodi di San Francesco a un domenicano e di San Domenico da un francescano. Perché malgrado le differenze tra i due ordini, sono veramente i due frutti meravigliosi della fine del Medioevo. Ma poi, soprattutto, Sant'Omaso spicca, oltre che per la sua santità, fu anche poeta, tra l'altro, se pensiamo all'ufficio del Corpus Domini, per fare un esempio, spicca per il suo intelletto poderosissimo. San Tommaso è la sintesi di tutto il pensiero antico, ma lo supera, lo supera di gran lunga. Aristotelico, si dice, certamente lui diede grande autorità a Aristotele, ma non in quello che Aristotele aveva di contingente, ma quello che invece era eterno, in quanto era il semplice buon funzionamento della ragione umana, nel realismo, nell'intellettualismo, cioè nel primato dell'intelletto, sulla volontà, ancora di più sul sentimento, evidentemente. Ma Sant'Omaso supera anche Aristotele proprio con l'apporto del cristianesimo. L'apporto del cristianesimo, potremmo dire i limiti di Aristotele vengono non dalla sua intelligenza, ma piuttosto dal mondo in cui viveva, che gli ha imposto, diciamo, delle conclusioni che andavano forse contro i suoi stessi principi o dei limiti, perché oltre un certo punto non poteva andare. Tuttavia, il pensiero di Sant'Omaso nel suo realismo, nel suo equilibrio, nel suo evitare qualunque errore andando di lì o di là, evidentemente, è un esempio per tutti noi. Sant'Omaso ha combattuto tante battaglie intellettuali, ma non da partigiano. Chiunque legga i suoi articoli, per esempio, nella Somma, leggendo la Somma, che è l'opera più conosciuta, più facile da consultare, vede bene come, e d'altronde era il sistema delle università medievali, egli incominci con le obiezioni. Ci sono tutte le obiezioni. Poi dopo c'è la risposta magistrale, il rispondio, in cui lui dà la sua soluzione. E la soluzione, in genere, è una o più distinzioni. E poi si giunge alla risposta alle obiezioni, dove, servendosi della distinzione è data nella risposta magistrale, si mostra nelle obiezioni la parte di verità e la parte di errore. E il perché c'è l'errore. Ragione per cui non possiamo certamente dire che Sant'Omaso è un moderato, è un intransigente della verità, ma come però egli affronti tutte le questioni con moderazione, in senso buono del termine, cioè esaminando tutte le sfaccettature di un problema, dando quindi non una risposta diciamo univoca, ma invece mostrando che la verità è una, ma in tutta la sua complessità. E nel limite del possibile con un linguaggio semplice, non astruso, e soprattutto chiaro, definendo bene i concetti, eccetera, e partendo sempre dalla realtà, non partendo dalle proprie costruzioni interiori, ma partendo sempre dalla realtà oggettiva. In questo Sant'Omaso è un gigante, questo sia nel dogma, sia nella morale, in tutto, perché la teologia è una ed è veramente l'espressione più compiuta del pensiero medievale, cioè del pensiero cristiano, valido ancora oggi. Bene, io la ringrazio, mi hai fatto un po' di chiarezza anche sul Medioevo, perché quando c'è ancora adesso un modo di dire siamo mica nel Medioevo, come a dire, l'epoca più buia, oscurantista, poi i tempi dei borboni, per fare una cosa più interessante, eccetera. Forse è vero che siamo nel Medioevo. Come? Forse è vero che siamo nel Medioevo. E' quello che dico anch'io, magari. Almeno per molte cose, non necessariamente per tutte, ma per molte cose sì. Certo, grazie, e passiamo alla prossima adesso. Ed eccoci alla seconda parte. Avevamo detto i Gesuiti, ci parla dei Gesuiti, perché sui Gesuiti, almeno dal mio punto di vista, si è gettato o continua a gettarsi del fango, mischiando un po' le cose. Cosa ci può dire lei? E beh, in poco tempo è difficile dire tutto quello che si potrebbe dire sul tema, un tema molto delicato. Allora, prima di tutto i Gesuiti sarebbe la Compagnia di Gesù, che è stata fondata da Sant'Ignazio di Loyola nel XVI secolo ed è ha delle caratteristiche peculiari, potremmo dire uniche anche nel mondo cattolico, quindi non solo cristiano, ma cattolico. Premettiamo, la Compagnia di Gesù fu approvata dalla Chiesa, da Papa Paolo III, è vero che fu sciolta da un Papa, Clemente XIV, e fu poi ristabilita, credo che è un caso più unico che raro, da un altro Papa, Pio VII. Questo già ci dice qualche cosa, nel senso che è certamente anche all'interno della Chiesa la Compagnia di Gesù è sempre stata soggetta a polemiche e a discussioni, quindi non solo da parte dei nemici della Chiesa, ma anche all'interno della Chiesa. La Compagnia di Gesù nasce come un ordine religioso, ma anche qui con delle peculiarità e per esempio nel campo degli ordini religiosi qualche cosa di assolutamente innovativo. Gli ordini religiosi fino a quel momento lì avevano tutti quanti i voti solenni che erano poi uguali per tutti quanti i membri, avevano un abito religioso proprio, avevano l'obbligo del coro, cioè della recita dell'ufficio divino in coro tutti i membri assieme. Erano alcune, dico solo alcune, delle peculiarità degli ordini religiosi, tra l'altro c'era anche il ramo maschile e femminile normalmente negli ordini religiosi. I gesuiti invece cambiano tutte queste cose che sembravano essenziali alla vita religiosa, hanno i voti semplici non quelli solenni o non solo, ci sono dei gradi, alcuni li hanno in un modo, altri li hanno in un altro, non hanno l'obbligo del coro, hanno un superiore a vita, mentre invece in tutti gli altri ordini religiosi è eletto solamente per un certo periodo, non hanno il ramo femminile, insomma, non hanno un abito proprio, hanno molte peculiarità che sono proprie della compagnia di Gesù. Poi in seguito molti ordini religiosi hanno seguito il loro esempio, ma certamente sono state lunghe discussioni. Un'altra particolarità è che Sant'Ignazio ha subito molte persecuzioni, ma la caratteristica di queste persecuzioni, tra virgolette bisogna dire in questo caso, che Sant'Ignazio subì, è che le subì piuttosto dall'interno della Chiesa che dal di fuori, per carità. La compagnia di Gesù fu combattuta aspramente e combatté aspramente i riformatori protestanti. Adesso sulla civiltà cattolica si cerca di presentare Lutero e Sant'Ignazio come due collaboratori, quasi potremmo dire, mentre invece tutta la storiografia anche gesuita ha sempre presentato i due come l'antitesi, i nemici opposti, Ignazio suscitato da Dio proprio per combattere Lutero e così i suoi santi discepoli come il Canisi o il Bellarmino e altri. Tuttavia le sofferenze subite da Sant'Ignazio all'inizio furono dovute all'inquisizione spagnola che bisogna dire tante volte lo arrestò e tante volte lo assolse. Questo perché Sant'Ignazio era sospetto di essere un alumbrado. Gli alumbrados o illuminati era una forma di protestantesimo che per la verità protestantesimo esattamente non era piuttosto era una forma di giudaismo cristianizzato se possiamo dire così. Non quello dei Marrani un'altra forma. I sospetti erano infondati tant'è vero che l'inquisizione stessa prima la sede romana dopo lo riconobbero ampiamente anche se non c'è dubbio che degli alumbrados o persone che erano passate da lì hanno collaborato anche da vicino con Sant'Ignazio. Questo ha creato poi all'inizio un rapporto ambivalente con l'inquisizione da un lato l'astrogeografia gesuita ha anche persino detto che Sant'Ignazio fu uno di coloro che contribuì alla fondazione dell'inquisizione moderna congregazione romana che fu opera piuttosto diciamo del futuro Paolo IV il cardinal Caraffa che tra lui e Sant'Ignazio i rapporti erano pessimi però ci furono anche dei momenti di scontro di scintille potremmo dire così poi come tutti sanno le scintille principali furono tra i domenicani e i gesuiti nascenti infatti gli inquisitori che si occuparono di Sant'Ignazio erano soprattutto domenicani e a livello teologico quindi non a livello di eresia ormai questo problema era accantonato ma a livello teologico dottrinale c'era e c'è ancora almeno fino al concilio adesso ormai sono tutti modernisti più o meno una tendenza nettamente profonda diversa tra i domenicani e i tomisti e i gesuiti i gesuiti si proclamano anch'essi tomisti e bisogna dire nella rinascita tomista dei tempi di Leone XIII ci furono anche dei gesuiti mi sembra il fratello stesso del Papa e tra i gesuiti che hanno illustrato di più il tomismo ai tempi di San Pio X abbiamo padre Mattiussi autore delle 24 tesi che ci mostrano il midollo del pensiero di San Tommaso in opposizione a chi? a Suarez che è considerato il principale teologo della Compagnia di Gesù la Compagnia di Gesù nasce in un periodo in cui nelle scuole teologiche che erano in crisi la crisi delle università e della teologia cattolica iniziò alla fine del Medioevo nel Trecento con il nominalismo il nominalismo Scoto non lo era nominalista ma già è un volontarista un po' il grande dottore di Francescani poi abbiamo i nominalisti a propriamente parlare tra i quali per esempio colui che fu l'autore studiato da Lutero quando era giovane studente Gabriele Biel che praticamente è un volontarismo e poi il nominalismo pensa che i concetti astrati sono solo delle etichette senza fondamento nella realtà quindi da via all'individualismo all'empirismo eccetera eccetera ora il nominalismo aveva ai tempi di Sant'Ignazio ma non solo quindi per lui ma anche per chi aveva posizioni diverse nella chiesa eccetera aveva un suo ruolo particolare cioè aveva la sua cattedra nell'università c'era quella tomista quella scotista e quella nominalista i teologi della compagnia degli inizi pensarono che il summum della teologia cattolica consisteva in una sintesi di queste tre diverse correnti e quindi il tomismo era principale basta leggere le regole per sentire con la chiesa di Sant'Ignazio negli esercizi spirituali lo spiega molto bene ma con un miscuglio degli altri pensieri e poi il grande teologo gesuita Suarez ce ne sono stati altri evidentemente ma lui è il principale ha inserito nella filosofia e quindi nella teologia soprattutto della compagnia di Gesù questa corrente più volontarista è una corrente di fondo più attirata non diciamo naturalista ma più attirata da ciò che è la natura che i diritti di Dio l'uomo piuttosto dei diritti di Dio da lì per esempio le due grandi dispute con i dominicani cioè la questione dei sistemi morali dove molti teologi e compagnia di Gesù sfociarono nell'assismo e poi la questione della grazia dove i teologi e la compagnia di Gesù con la dottrina di Molina alterarono il pensiero di Sant'Omaso sull'importanza della grazia in polemica con i protestanti prima in polemica con i giansenisti dopo ma certamente dando all'uomo per riassumere molto uno spazio maggiore che aspettava Dio una tendenza simile si trova nella pastorale e nello spirito missionario della compagnia di Gesù nessuno può ignorare la grandissima spinta missionaria della compagnia di Gesù in tutto il mondo era il periodo d'altronde delle grandi scoperte il mondo nuovo nelle Americhe ma anche l'Asia che era già conosciuta ma che venne evangelizzata pensiamo a San Francesco Saverio e il suo spirito missionario nelle Indie in Giappone e morì alle porte della Cina ma proprio i successori instaurarono sia in India sia in Cina questi riti che sono chiamati riti cinesi e riti malabarici cosa voleva dire? beh dicevano un po' come il cristianesimo si è adattato alla cultura greca romana così deve qui adattarsi alla cultura indiana induista e alla cultura cinese confuciana eccetera oppure al taoismo e così abbiamo avuto dei gesuiti vestiti da bramini oppure vestiti da saggi cinesi o giapponesi o confuciani che ammettevano dei riti di per sé pagani che si consideravano cristianizzabili la Chiesa si pronunciò questo proposito e condannò ripetutamente questi riti cinesi malabarici eccetera ma a compagnia di Gesù che vanta un'obbedienza particolare al Papa proprio nelle missioni non intese mai ragione su questo tema ma scusi furono questi i motivi che portarono alla soppressione e ce ne furono anche altri? questi sono molti dei motivi che portarono alla soppressione della compagnia e poi naturalmente ce ne furono altri ci furono dei motivi che venivano da lì dentro cioè polemiche all'interno della Chiesa dovute a queste posizioni della compagnia che sono criticabili a mio parere assolutamente poi ci sono invece motivi che vengono dall'esterno ovvero sia dall'ostilità per esempio di quei governi illuministi dove c'erano i famosi sovrani illuminati per non dire legati più o meno qualcuno alla massoneria il Portogallo di Pombal la Spagna la Francia eccetera eccetera che quindi richiedevano la soppressione della compagnia anzi senza mezzi termini espulso i gesuiti dai loro stati deportandoli altrove finirono praticamente tutti gli stati della Chiesa fino a che il Papa non deve rassegnarsi pro bono paci se scioglie la compagnia questa è la versione pubblicata in genere in difesa della compagnia cioè la Chiesa cede alla pressione degli stati illuministi gallicani massonici eccetera è una versione che ha una parte di verità ma che non è tutta la verità anche perché se no non si spiegherebbe come due principali sostegni del pensiero illuminista cioè Federico II di Prussia e Caterina la Grande in Russia accolgono la compagnia di Gesù proprio quando è soppressa in Spagna in Portogallo in Francia eccetera viene difesa e mantenuta viva in Russia e in Prussia e infatti la compagnia non morì mai del tutto perché malgrado la bolla di soppressione da parte di Clemente XIV i gesuiti russi cioè che stavano in Russia si fecero forti delle leggi dello Stato che proibivano la pubblicazione della bolla in quello Stato per mantenere in vita in quei paesi la compagnia ed è da quel rimasuglio che rimase ancora vivo durante tutta la tempesta della rivoluzione francese poi dopo la rivoluzione francese dove si vide dove portavano questi principi che avevano chiesto prima di tutto la soppressione della compagnia che si arrivò a ristabilire la compagnia di Gesù prima poco a poco e poi in maniera universale e lì in quel periodo ci fu lo scontro diretto tra la compagnia di Gesù e i liberali perché le potenze liberali dell'Ottocento quindi nel ristabilire erano state sistemate tutte le questioni che avevano portato alla soppressione oppure no e allora in che modo avvenne questo annullamento della soppressione diciamo fu una questione disciplinare perché la soppressione di per sé era una questione disciplinare la restaurazione fu una questione disciplinare i tempi erano cambiati allora si riteneva più opportuno sopprimere e dopo si ritenne più opportuno ristabilire la cosa è possibile però è anche vero che è rara se noi pensiamo al caso più simile ma quindi tutti i casi che diceva lei prima l'adattamento della religione cattolica diciamo che com'è che fu sistemata non furono mai sistemati cioè ci sono alcune questioni che rimangono di libera discussione nella chiesa i sistemi morali probabilismo probabiliorismo eccetera sono ancora di libera discussione si può tenere l'uno o l'altro il lassismo fu condannato e poi nessuno disse io sono un lassista sono alcune proporzioni probabiliste considerate lassiste allora lì ovviamente ogni cattolico di qualunque opinione teologica fosse accettava la decisione della chiesa quindi anche la compagnia di gesù come al contrario i rigoristi quando il rigorismo fu condannato evidentemente anche chi seguiva quelle opinioni ritrattò persino Baio che era mezzo protesta quando fu condannato ritrattò i propri errori secondariamente la questione dei riti cinesi c'era un giuramento che i missionari dovevano fare contro queste pratiche che rimase in vigore fino a Pio XII fu Pio XII che lo soppresse quindi fino a Pio XII tutti giuravano e si spera che poi nella pratica lo applicavano evidentemente si spera ecco e così per altre questioni cioè in alcuni punti la chiesa si pronunciò e allora chi voleva essere cattolico si sottomise in altri punti la chiesa ha lasciato libertà di discussione la lascia tuttora e ognuno segue la propria opinione questo non significa che siano tutte vere ce n'è una vera e tutte le altre non sono corrette però significa che se uno pensa in cuor suo di dover seguire tale corrente di teologia piuttosto che un'altra gli è ancora recito seguirlo in questo modo nella chiesa possono convivere tendenze diverse però ci sono dei limiti oltre i quali non si può andare e quindi si capì benissimo come la compagnia di Gesù poteva essere restaurata pur avendo delle inclinazioni in alcuni punti di teologia che non collimano per esempio con l'insegnamento dei domenicani facciamo un esempio diciamo così detto questo ogni singolo gesuita ce ne potevano essere che invece come ho fatto il caso di padre Mattiussi che è un grandissimo teologo tomista eppure della compagnia di Gesù questo non c'è nessun dubbio quindi la compagnia di Gesù ha dato un grande bene alla chiesa alle anime gli esercizi spirituali che noi stessi diamo danno un grande bene alle anime fu oggetto di tante polemiche sia all'interno della chiesa sia all'esterno tanti nemici della chiesa hanno identificato la compagnia di Gesù come la quintessenza del cattolicesimo e del papato per cui l'odio per la chiesa si sfogava prima di tutto contro la compagnia di Gesù pensiamo ai protestanti in determinati periodi ancora oggi al liberalismo dell'ottocento che la prima cosa faceva per esempio quando nel 1848 lo statuto in Piemonte permette la libertà di culto per i valdesi sopprime la compagnia di Gesù vengono espulsi tutti quanti ecco un esempio della diciamo della dell'odio che c'era nei confronti della compagnia in certi ambienti i jansenisti per esempio che erano non protestanti ma certamente si avvicinavano al pensiero protestante erano i nemici acerrimi nella compagnia di Gesù detto questo a mio modesto parere se bisogna seguire rifacendoci a quello detto prima degli studi di dottrina di teologia in tutti i campi quindi anche nella scetica eccetera io seguirei piuttosto la scuola di San Tommaso e quindi dell'ordine di Domenicani piuttosto che quello della compagnia di Gesù molto molto chiaro a mio modesto parere naturalmente va salvata l'opera di Sant'Ignato e quando la Chiesa canonizza un santo è di fede che costui sia un santo che quindi ha praticato le virtù eroiche che può essere pregato come nostro intercessore presso Dio e che è un modello che noi possiamo imitare e quando la Chiesa prova un ordine religioso ciò significa che seguendo gli statuti e le regole di quest'ordine religioso le anime si santificano questo vale per tutti e vale quindi anche per la compagnia di Gesù la ringrazio molto chiaro grazie ed eccoci qua la terza parte tra le tante iniziative dell'istituto c'è anche quella di pubblicare un periodico diciamo così dal contenuto che volete lei ci spiegasse cioè perché è nata questa rivista perché è nato Sotalizium con quali scopi con quali finalità per fare esattamente che cosa Sotalizium è stato fondato ormai qui nell'ultimo numero vedo anno 37esimo adesso siamo credo già nel 38esimo e che è raro per una rivista quando fu fondato Monsignor Lefebvre scrisse un bigliettino di auguri dicendo speriamo che non nasca morto ancora ancora esiste fu fondato quindi nel dicembre dell'80 82 83 non mi ricordo neanche più io quindi era ancora la rivista della della casa del nord del priorato San Carlo della fraternità San Pio X uno dei due che l'ha fondato è stato il sottoscritto il motivo era il fatto che la fraternità San Pio X non aveva una rivista praticamente un bollettino in Italia e che quindi era assolutamente necessario indispensabile per far conoscere le nostre attività ma soprattutto la nostra posizione nel nostro pensiero per approfondire eccetera una rivista che nacque striminzita evidentemente il nome il titolo della rivista era però tutto un programma ha avuto modo più volte di raccontarlo di spiegarlo Sodalizium era per alludere Sodalizium Pianum di cui abbiamo già parlato questa associazione San Pio V Sodalità San Pio V voluta da Monsignor Umberto Benigni nella lotta contro il modernismo e per la restaurazione di una società autenticamente cristiana ora parlando di polemiche interne abbiamo parlato prima di polemiche interne parlando una polemica interna nella fraternità San Pio X stessa la fraternità San Pio X dal nome San Pio X si rifaceva a questo grande Papa che combatté il modernismo l'eresia dei nostri tempi e tuttavia proprio all'interno della fraternità era assorto un dibattito una polemica anzi anche di più dalle conseguenze nell'interpretazione del pontificato di San Pio X cioè sulla rivista francese della fraternità Fiderite erano stati pubblicati una serie di articoli da un sacerdote professore anzi direttore di seminario della fraternità direttore di Albano pace all'anima sua nella quale il pontificato di San Pio X veniva interpretato dicendo c'erano dei moderati che erano i veri interpreti del pensiero di San Pio X i modernisti che la Chiesa ha condannato dei moderati che erano veri interpreti di San Pio X e poi c'erano degli scalmanati come Monsignor Benigni gli integralisti eccetera che invece avevano uno spirito amaro erano cattivi esagerati eccetera questa era una deformazione gravissima della storia della realtà e di quello che erano stati i veri amici di San Pio X e gli altri invece che l'avevano volontariamente o no sabotato e che hanno permesso la rinascita del modernismo io che ero un seminarista mi ero posto a questi articoli con un piccolo saggio che avevo spedito al direttore della rivista il direttore della rivista lo lesse e mesi fine alla serie di articoli naturalmente l'autore non fu contento e mal me ne incolse insomma non sto a raccontare la mia vita ma questa storia mi aveva profondamente segnato e quindi da giovane sacerdote assieme a Don Munari che era assieme a me avevamo pensato che rifarci al movimento di Monsignor Benigni voleva dire rifarsi a San Pio X ma in questa prospettiva chiarissima e infatti Sodalizio nasceva in questo modo polemico e purtroppo per fortuna per lui continuò a scatenare polemiche perché prima nella fraternità difese la nostra posizione intransigente in Italia che era mal vista perché l'ambiente tradizionalista italiano era sonnechioso e timoroso e tremebondo in seguito questo ci ha portato a uscire o a essere messi fuori dalla fraternità sono i punti di vista e dopodiché Sodalizium continua per puro caso in quanto la fraternità alcuni esponenti della fraternità a San Pio X avevano scritto al tribunale di Ivrea presso il quale era registrata la rivista che noi avevamo dato le dimissioni e quindi i nuovi proprietari erano loro e il tribunale eseguì quando ci accorgemmo di questo fatto carte alla mano dimostrammo che non erano mai state date le dimissioni e quindi il tribunale tornò sulle proprie decisioni e riassegnò la rivista a noi per cui si arrivò a un compromesso i denari della rivista restavano alla fraternità e il titolo a noi e per noi sinceramente valeva molto di più il titolo che quel poco che era rimasto in cassa ed ecco che Sodalizium rinasce come organo ufficiale dell'istituto Materboni Consili e siamo arrivati al numero 72 bisogna dire che la periodicità in questi ultimi anni è piuttosto deficitaria anche perché all'inizio eravamo dei sacerdoti non dico disoccupati ma certamente la mole di lavoro era molto inferiore e poi avevamo forse più voglia eravamo più giovani adesso invece il lavoro è enorme aumenta sempre di più e quindi anche il tempo da dedicare alla rivista è inferiore tuttavia a parte il fatto della rivista integrata adesso dai convegni eccetera siamo in un periodo in cui i video come dimostra questo che stiamo facendo ha un'importanza particolare anche se il buon libro è sempre meglio di qualunque video e comunque la rivista penso che ha la sua peculiarità cioè ha degli articoli di devozione di vita spirituale e anche alcuni articoli più facili ma soprattutto cerca di dare anche degli articoli che sono diretti prima di tutto per il clero che magari non ci segue o non tutto ma che in ogni caso ci legge e poi secondariamente anche evidentemente per i laici che vogliono approfondire la loro cultura religiosa si tratta quindi di difendere o di spiegare alcune posizioni teologico dottrinali particolarmente difficili in particolar modo della tesi che noi difendiamo e possiamo dire che anche parlando dei sacerdoti per esempio i sacerdoti degli Stati Uniti hanno aperto un sito nel quale moltissimi degli articoli della nostra rivista sono stati tradotti in inglese d'altronde molti sono tradotti anche in altre lingue straniere segno che anche in portoghese in polacco eccetera segno che sono particolarmente interessanti in genere cerchiamo di evitare gli argomenti verissimi e importantissimi dove però almeno in un certo ambiente tutti sono d'accordo per cui saremmo soltanto dei gente che dicono quello che già dicono altri meglio di noi faccio un esempio l'aborto la compagna per la vita e contro l'aborto ci trova totalmente schierati in questa battaglia ma non dedichiamo molto spazio in genere a questo tema perché perché altri meglio di noi con maggiore diffusione nostra eccetera trattano già di questo tema invece ci sono tematiche di cui nessuno tratta o se qualcuno ne tratta ne tratta male allora il ruolo di Sodalizium è proprio questo cioè di trattare di quelle tematiche di quei punti particolarmente delicati che invece gli altri non trattano o trattano poco o trattano male e allora questa è l'originalità e potremmo dire anche l'utilità di una rivista come la nostra altrimenti ci sono tante che sono dei doppioni dicono tutte più o meno la stessa cosa anche quando dicono cose vere giuste belle e buone però potrebbero anche che non esistere tanto ce n'è un'altra invece Sodalizium penso che ha un ruolo tutto suo non basta da sola la nostra rivista da sola è un po' non dico monotematica no ma certamente si limita a certi argomenti in particolar modo ecco ma ci fanno esempio di questi argomenti cui lei parlava prima Sodalizium tratta argomenti che altri o non trattano o trattano male qualche esempio allora beh un esempio quello che le altre riviste non trattano o quasi per esempio la tesi teologica di Monsignor Granolorie la tesi di Cassiciacom quindi la situazione attuale dell'autorità nella Chiesa una questione di cui altre riviste non trattano o trattano male è per esempio la questione del rapporto tra il cristianesimo e il giudeismo di cui abbiamo parlato molto nel passato ma parliamo anche oggi nel presente argomento quanto mai delicato e che noi trattiamo da un punto di vista religioso e cristiano diamo molto spazio ma questo ne possono trattare anche in altre riviste le recensioni dei libri alla storia da un punto di vista cristiano c'è una presentazione evidentemente delle attività del nostro istituto che comprensibilmente sono trattate da noi e non dagli altri perché ognuno parla delle proprie attività la questione della masoneria e in certi ambienti si parla molto della masoneria molte volte se ne parla male noi cerchiamo di parlarne in maniera radicalmente contraria parla male nel senso non se ne parla in maniera adeguata a esoterismo e masoneria assolutamente contrari ma con fondamento scientifico storico con fonti serie mentre invece molte volte ci si lascia abbandonare o trascinare dalla fantasia o da quello che non è dimostrato e dimostrabile dal folklore che poi a mio modesto parere fa diciamo gli interessi degli avversari c'è anche della sana polemica sana polemica nel senso che all'interno del mondo cattolico tradizionalista quindi del mondo cattolico in generale combattendo il modernismo questo è chiaro ma anche all'interno del mondo cattolico tradizionalista ci sono posizioni che ci sembrano meno corrette o errate eccetera polemiche dibattiti intellettuali che a mio parere anche quando legittimamente si può non essere d'accordo su qualcosa può far avanzare le conoscenze su un dato tema per esempio è preannunciato deve ancora uscire sempre Monsignor Benigni che il mio pallino uno studio su Monsignor Benigni soprattutto dopo la morte di San Pio X sotto i pontificati di Benedetto XV e Pio XI rispondo a un confratello che ha collaborato tanti anni con noi mi sembra che questo permetterà di approfondire per esempio la storia della Chiesa in questo periodo abbastanza lungo i due pontificati così importante però per l'attualità che non è solo storia è storia che è collegata al presente quello che viviamo oggi è il frutto di quello che abbiamo vissuto nei decenni o nei secoli passati quindi penso che ci si può trovare qualcosa che altrove non si trova poi ci sono altre cose che magari non si trovano da noi si trovano altrove quindi consiglio non di leggere una sola rivista di leggere svariate ma senza dubbio penso la nostra rivista chi si interessa di certi temi non è inutile ecco è una voce originale nell'ambiente cattolico in difesa della tradizione lei da quanti anni è direttore di Sodalizio? dunque non me lo ricordo bene esattamente ma verso l'89-90 una cosa di questo genere quindi quanti anni sono? beh faccia conto lei la tematica sono sempre stato sono tanti anni tanti e fondatore co fondatore siamo stati in due fin dal principio sono diventato sacerdote nell'82 e subito abbiamo pensato alla fondazione della rivista che per Natale è uscita io sono lettore di Sodalizio da qualche anno e devo dire che una caratteristica che a Sodalizio non è legata alla cronaca quindi un numero di 10 anni fa 20 anni fa 25 anni fa è ancora attuale quindi non è legata proprio strettamente ai tempi serve più orientare ce la spiega questa cosa in realtà come come ha ragione lo dice bene correre dietro alla cronaca non è possibile perché non siamo un giornale dopo poi che la periodicità è diventata così prolungata ancora peggio se c'è da intervenire su un argomento di strettissima attualità lo si fa magari con un comunicato scritto o con un video ma anche questo raramente perché la fretta non è mai una buona consigliera invece siccome gli articoli sono dottrinali cioè partono sempre dai principi che poi magari applicano una situazione concreta per questo sono sempre validi perché quello che è un principio quello che è dottrinale non ha una data di scadenza ecco per questo come dice lei giustamente un numero di sodalizio di vent'anni di trent'anni fa può essere molto utile essere letto ancora oggi proprio perché al di là dell'avvenimento che può aver dato origine a questo articolo occasione a questo articolo esso vale sempre ancora oggi anzi a volte mi stupisco pure io ho detto ho scritto quello ma me lo rieguo volentieri o qualche mio altre persone che collaborano alla rivista me lo rieguo volentieri proprio perché sempre valido e sempre interessante poi le cose si dimenticano e quindi sempre bene tornare su quello che è stato visto e c'è il formato sia cartaceo che scaricabile dal sito sì all'inizio ovviamente era solo cartaceo e mi ricordo quando si faceva il menabò tagliandolo con le forbici incollandolo eccetera e adesso evidentemente è tutto anche online come si dice i primi numeri più vecchi non ci sono ma a partire da un certo numero ormai vecchi sono tutti quanti consultabili in rete nel nostro sito gratuitamente evidentemente quindi a disposizione dei nostri lettori bene grazie 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 Don Francesco e alla prossima grazie a voi grazie a voi grazie a lei e grazie a voi 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 grazie a voi